Buonasera, sono Alessandro Battisti, presidente di Opes Roma. Sono qui per il rappresentanza di Opes, l'ente nazionale che partecipa attivamente a questo progetto. Siamo partner del progetto. Nella giornata di oggi sono il coordinatore del tavolo di lavoro che riguarda l'attivismo giovanile. presenti al nostro tavolo diverse associazioni del territorio che hanno l'obiettivo di strutturare e ideare degli eventi che possano includere i giovani.